salve a tutti ragazzi questo è il decimo episodio di mille graf di me e di ciao come potete vedere abbiamo finito sia di fare la casa abbiamo finito sia la casa e sia abbiamo allargato la nostra caverna questo buco si questo buco che ci fa comunque per casa iniziale casa iniziale e comunque per biniera quindi voi giustamente ancora tre pesci giovi mio fratello andato a pescare avete ben visto che io sono morto pure di nuovo perché i creeper purtroppo sono creeper sono creeper la legna nera era qui guarda guarda dove era la legna nera ok sono albo non si distingue dalla terra si io vado a piazzare un paio di alberelli questi bianchi che mi sape l'altro per fare le scale ok mi conviene ritornare sennò qua finisce a matrimonio va stasso si ora noi chiudiamo quel buco perché io non ce la faccio più cioè da quel cazzo di buco è stato esco ma non devi dire paraccia è la vita scusate per la piccola parolaccia e purtroppo quando scappa scappa è una cosa naturale ora qua sotto il video per scuola con senza alta alberelli e si cuoce un pesce per lo spiegare giustamente che figata guarda l'effetto ma ti scomparsa ok e comunque ragazzi in questo episodio giustamente vi creerò una pala ahi un sacchio eh si dalla cesta ma sai che ho un'idea bellissima quale pescare in casa se ma dai finiscio da una pozzanghera 2 e 2 per 2 giusto dico si può pescare si va bene che si può pescare però dai meglio un maghetto quello del tuo caso vabbè ce la dobbiamo fare l'acqua infinita prima o poi non bello questo è il senso io invece chi comincia a fare il sotterraneo della mia casa ancora che sotto c'è tipo casino è tutto tranquillo comunque la casa ancora non è finita quindi poi cominciare un po' la a redarla ai bestia per combattere zombie da posto vincere no non tanto c'è qualcuno che si lo vede mezzo cuore mezzo cuore mezzo cuore mi cammina solo che b piatti chi ti ha detto oddio ha censurato a te chi te l'ho detto mi cammina solo non vale a n n dici alla finisci fare così il d vincello urlare vieni qua vieni qua dell'acqua vieni scoppia l'acqua tanto non mi fa niente eh eh so va vai vai basta basta 1 2 3 esci un attimo fuori per guardare fuori si aspetta per prendermi i materiali dove sei? ero dall'altro lato dove c'è il muro quello grande grande quale due urlare due urlare da là posso fare fast and furious in mezzo ai zombie ah eccolo creepers sento psss ma io lo batto a correre perchè io sono un corridore professionista eh posso ho preso tutto il tuo materiale questo caso senza consaglio eh io sono diciamo nella nuova casa nuova eh ho conquistato due carne fiducia una dalla due step eh si vince eh a quanto pare c'è il bug grafico grafico no grafico che ti mangi la carne avvenenata però no non è bug è normale non è cioè Baviri sta a vedere quante possibili possibilità su 100 che ti riesce a farne marcia proprio di quelle brutte brutte eh siccome io mi do avvicinare in quel muro quindi vedo due e' parte mi scavo così da questa parte non mi interessa questa l'aiuto quale che non è quindi mi ha fatto aiutare che non è da questo che non è che non è giorgia un po' se che capita purtroppo quando eccoci purtroppo va purtroppo chi sei felici ti è sceso la legna ho visto ma per salire giù per salire giù il suo progetto non ci sarà un piano sarà un sortello di un po' di tutto questo per pescare capito qua poi ci metteremo tutto tutte le feste mi sembra che io non so quando vado sopra la vita ok ci sono per pescare da sopra c'era il coso lo scheletro che quando saltavano prende il lancio una freccia credibilità per sapere che bella cosa qualcosa sono sotto all'inizio l i scali certo qua non abbiamo fatti di buio ok si fa giorno purtroppo non possiamo fare e signora si infila sondi dentro e pd chiede questo sovrappone cd 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 per fare il circo come il tuo animale domestico dov'è? ho un ucciso attento attento passati creeper scheletro scheletro c'è arrivato di merda guardalo guarda curto dell'aria visto a posto sono arrivato gli metti segnali qua perfetto devo farmi una corsa a casa infatti la marotona posso fare il maratoneta ok 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 finisce me la scelta una pala ma dove sei scusa? so cosa ma puoi fare un tonnello che collega la casa alla minina certo io tutto posso fare ma questo è un genio mio fratello lo dichiaro eeeh lo dichiaro qui davanti a tutto youtube dico che è un genio povero scheletro si lo so ci sono del danno qua c'è la conversa no comunque ragazzi spero che in questi episodi vi divertite quindi e come vi ripeto a dire abbiamo pure la pagina su facebook quindi seguiteci anche lì in descrizione troverete il link ho fatto un po' un altro cane così avevo un osso bravo vinci gliel'ho dato e mi ha detto grazie mi ha ricompensato con la sua amicizia che bella cosa io vedrò io e mio fratello giustamente io ho detto mio fratello di poco fa di farmi una pala ancora non ho ricevuto nessuna pala ah scusa comunque ragazzi quest'area sarà tutta ben allargata e qua giustamente ci sarà tutta la palimentazione sotto casa per sei dove sei per sei per sei non capisce la battuta dove sei per sei perché sei scemo ha visto se per sei che sei scemo ma comunque levati dalla pressure il plate ha visto vinciare che ci sei perché non fa la presuppletta per l'ottomoto 1 perchè sto perchè sto il mio cane è mio il cane è mio il cane è mio comunque ragazzi sto facendo il sotterrario picchiai cane e vincere ma che pala di fatto di tipo ventura dorata c'è vincere no non c'è c'è vincere facciamo una pala no 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 lascia stare mi faccio da bene sto facendo no non lo fare non mi abbandonare ok c'è dove questo il modo di lavorare è buffa oh io sto pescando a casa mi sento dire pure cose ma ma sei scemo leone il cane è il fifone leone il cane è il fifone certo questo cane si è spaventato di me comunque ragazzi ops 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 alla faccia di tombato poi ho avuto la prova che in casa non si può pescare ciao cane ciao cane davo davvero c'è un cane da risposta ok abbiamo chiuso i buchi questo però lo dico proprio così quindi questa lampadina la mettiamo qui torcia scusate torcia man mano comunque che facciamo episodi piano piano faremo tutta l'agricoltura o tutto automatizzato con pistoli reddest vi farò il video tutorial come sapete roba è nato in un solo giorno eh era una battuta si era una battuta bellissima vi sono tutti piccola e vi si rompe la pala e vi si rompe piccola ovunque ragazzi penso che per stasera è tutto va bene e vicio long vi auguriamo una buona giornata serata o anche o anche serato mattinata fatemi eh da me e mio fratello è tutto per oggi ciao a tutti ciao a tutti ragazzi e buon divertimento e buon divertimento